Oh ragazzi, ciao belli, sono chissà una giù, tu quello della mia ancora, allora parlo di chi entra la casa del grande oggetto, ovviamente. Cosa fuori di testa la gente? C'è proprio un cacchio a fare, ho capito? La gente gli pia male se li pia a testate, ho capito? Cioè, uno pensa, porca mastela, cosa mi è venuta a chiedere? Mi è venuta a chiedere, oh Ricky, posso guardare su Facebook dappertutto il profilo tuo, il profilo tuo? Ehi, tu bello, hai capito? Guarda, ecco, guarda il profilo mio, lei è proprio a testate, l'ho sentenziato, porca mastela, quando non è chissà una giù, tu sentenziato con una testata, vuol dire che c'è qualcosa che non va, bene. Grazie. Grazie.